Ciao, vi voglio far vedere l'album che avevo realizzato per San Valentino. Non ho potuto metterlo prima perché era il regalo di un ragazzo alla sua donna. In questo album ho scritto Love, poi l'ho passata a scritta col Glossy Ascent. Andiamo nella prima pagina. Nel retro copertina gli ho messo una tasca con una tag, in cui ci ho messo anche un pezzo di foglio bianco per poter scrivere. Perché come vedete ho fatto quasi tutto nero e rosso. Vedete una tag, sempre inserito un pezzo di carta bianca per scrivere, un altro portatag. Anche qui è una scritta, l'ho ritagliata con la silhouette cameo, poi ho passato a Glossy Ascent. qui ho messo un portafoto, cioè portafoto, diciamo, si apre e si inserisce le foto dentro, vedete lì, qui si apre, qui ho messo una taschina con un fiocchettino che poi è quello che chiude, un nastrino che chiude il tutto. Questo è sempre una tag fatta con un fiore che ho creato io. vedete, tutto rosso e nero. vedete e questa è l'ultima pagina e qui ho fatto due tag. Questa l'ho fatta io e ho inserito dei fiori. questo è un cuore che ho tagliato con la silhouette cameo e poi ho messo nella tag. Questa è una busta che ci si può inserire qualsiasi cosa e l'ho fatto con un envelope, con le buste e ho messo una spirale. Bene, questo è tutto. Spero che l'album vi piaccia e al prossimo video. Ciao! Ciao!